Quattrocento rotoballe di Fieno sono state perdute in un incendio divampato a Montegalda poco dopo mezzogiorno l'intervento dei vigili del fuoco per sedare i focolai delle fiamme è andato avanti tutto il pomeriggio di mercoledì. L'incendio è divampato in un deposito all'aperto le squadre dei pompieri arrivati da Vicenza a Padova, i volontari di Piene con un'autopompa tre autobut, i 12 operatori sono riusciti ad evitare il coinvolgimento della vicina stalla nel tardo pomeriggio erano ancora in corso le lunghe operazioni di smassamento degli oltre 2000 quintali di foraggio che per essere bonificato dovrà essere bagnato e spostato in un campo all'aperto. Le cause dell'incendio non sono al momento no